Benvenuti allo Studios Academy, io sono Furio Capozzi e oggi andiamo a vedere un aggiornamento che hanno fatto al software Wiltro DJ Pro nella parte che riguarda il broadcasting, c'è un aggiornamento molto particolare andiamo un po' a vedere qual è questo aggiornamento allora intanto innanzitutto per chi non avesse seguito le precedenti puntate di questa trasmissione sul broadcasting con questo software andiamo a spiegare questa questione allora dunque, esiste la possibilità in Virtual DJ di fare broadcasting ovvero di mandare in onda radiofonica tramite radioserver la trasmissione come una vera e propria radio quindi avendo un server si inserisce il server URL, la porta qui, la porta del server, la password si inserisce il tipo di trasmissione e si manda in streaming qual è il problema rispetto agli altri software fatti appositamente per la radio? che era impossibile programmare se non facendo delle impostazioni qui nell'automix quindi andando a trovare un punto esatto era impossibile programmare la partenza di un determinato brano o di un determinato jingle o una pubblicità con questa ultima versione invece è stata introdotta la funzione di event scheduler eccolo qua allora vediamo un po' come funziona questo event scheduler allora qui si possono aggiungere diversi eventi programmati vediamo un po' allora per esempio noi vogliamo chiedere quale azione play e file per esempio play e file gli facciamo suonare un jingle jingle dello studios academy eccolo qua gli diciamo di suonare alle ore gli diamo un orario preciso andiamo a vedere se sono 17.07 diciamo 17.08 17.08 gli diciamo che deve suonare per 10 secondi questo jingle quanto era sottirato oppure può essere anche fino a oppure non stop diciamo per 10 secondi gli diciamo salva a questo punto lui dovrebbe suonare a quella determinata ora adesso un'altra cosa che noi possiamo dirgli è di aggiungere altri eventi quindi per esempio una pubblicità ecco noi diciamo aggiungiamo un'altra pubblicità un file per esempio un altro file adesso mettiamo un altro qualsiasi sempre lui giusto per dare un'idea ecco avete sentito la 17.08 è partito il jingle ok chiaramente si può rimuovere questo quindi noi nell'elenco di jingle ce l'abbiamo qui possiamo modificare o modificare l'orario quindi qui modificare l'orario oppure riprogrammarlo nella sequenza aggiungendo altre azioni e quindi dirgli di ripartire nuovamente a determinati orari ok per esempio questo diciamo per esempio però se devi fare alle 18 faccio un esempio quindi alle 18 lui suonerà nuovamente questa è una bella sorpresa perché in questa maniera sarà possibile lanciare degli programmi ben definiti e altre cose di questo genere until fino a per esempio oppure dagli altri formi di questo genere e quindi si crea questa playlist chiaramente quella verde significa è già stata suonata e invece quella diciamo che rimane nera e bianca è ancora da suonare questa è la nuova funzione all'interno di Virtual DJ Pro quindi con questo io ringrazio tutti e buona serata a tutti quanti grazie